se il meteo è incerto tieni aperto siamo a Indren, il meteo non promette bene però forse si scopre non vi dico dove puntiamo perché potremmo cambiare piani all'ultimo quindi ecco non la diciamo per superstizione esatto poca gente in giro qua c'è il bomber sotto la corniciona arrivando in quelle folate le volte le devi buttare per terra siamo quasi fuori dal canale c'è un vento ragazzi lì c'è il Francis, noi ci siamo legati guardate che buco lì si vede la piramide il Balmerhorn, ho chiesto delle vette se noi puntiamo il colle dell'Isse vediamo dovremmo essere sotto la farro intanto in tanto spuntano questi seracchi enormi la visibilità è nulla non si vede la nostra vita che dovrebbe esserla in mezzo eccola alla capanna la pulizia degli ultimi metri per la giusta andiamo all'isci e saliamo l'ultimo pezzo di cresta allora via veloce su sta merda di porca besta che buco, via via su un stai Mamma mia che spettacolo Mamma mia che spettacolo Mamma mia che spettacolo Tra che affronta le rocette L'esposizione Notevole sta chiastina Appunto il fra che scende Eccolo lì Arrivo alla cabanna Margherita L'esposizione più alto d'Europa Prima volta che si apre dalla cabanna Margherita Questa ripresa vi salutiamo Oggi l'abbiamo combinata grossa Grazie a tutti